Una goleada per cominciare con il piglio giusto. Il Bari regola 22 a 0 il Rocca Vivara, formazione abruzzese che melita nel campionato di prima categoria. In attesa di test più probanti, i bianco-rossi viaggiano a velocità di crociera per tutti i 90 minuti. Sugli scudi che Dira e Antenucci, bene, botta il neo arrivato a Dorval. Buone indicazioni dunque per Mr. Mignani che punta sul fattore continuità per fare bene anche nel prossimo campionato di Serie B. La cosa più importante è che la colonna portante della squadra è rimasta, quindi conoscono già le idee, ricominciano a lavorare insieme sia quando la palaccia abbiamo noi che quando la palaccia hanno gli altri. Questi sono vantaggi, piccoli vantaggi che abbiamo rispetto a quando abbiamo cominciato a costruire. Poi è chiaro, le gambe stanno cominciando a muoversi dopo un po' di inattività, quindi la priorità in questo momento è che ci sia continuità di lavoro, che non ci siano piccoli problemi, piccoli problemi muscolari e poi sul resto dobbiamo ancora lavorare, lavorare tanto. Il Bari intanto è alla ricerca di un attaccante, da Maric a Mancuso, entrambi di proprietà del Monza, passando per le suggestioni Lamantia e Di Carmine. Mignani in ogni caso non ha fretta, c'è grande sintonia con il DS Ciro Polito. Ma Ciro è qui con noi, quindi con lui io parlo tutti i giorni. L'unica cosa che io so sono i fatti. Lui l'anno scorso ha costruito una squadra che alla fine si è dimostrata una squadra vincente. Sono fiducioso che con i tempi giusti e noi abbiamo bisogno probabilmente di tempi, riusciremo a chiudere quello che ci serve prima dell'inizio del campionato.